Musica Ciao a tutti ragazzi benvenuti ben ritrovati in questo nuovo video della pixel dove sto raccogliendo del grano Perché è cresciuto ragazzi abbiamo fatto crescere abbiamo sistemato il grano in modo che crescesse molto bene ragazzi Sta fruttando la mia farm sta fruttando anche più di quanto pensassi ragazzi Adesso siamo abbastanza riforniti di cibo penso di non morire più penso perché abbastanza ma Dai ho l'idea confusa e pietà io ho confuso io ho confuso Allora pentiamo tutti i semini 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 Due tre a posto E' sempre sta terra che mi si alza non si sa perché E abbiamo 16 grano what what Siamo pieni di cibo basta Cinque panini pieni di cibo cinque panini vai Beh ragazzi è tanto eh Cioè non ci sono animali non è facile senza animali Produrre cibo eh scusate se permettete Vado anche a raccogliere cani da zucchero perché le vedo molto cresciute Sì 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 Che dicevo nello scorso episodio non le vedevo invece cazzo se ci stanno e guarda come sono cresciute Cazzo vai affettiamone Raticate al 29 contro pg al 14 No non posso non posso usare pg via fuga muori pg Non posso utilizzarti pg muori devi morire Non posso utilizzarti bravo 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 pg bravo 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 pg 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 Cazzo vai raticate di merda Allora Abbiamo 20 cani da zucchero non so sinceramente che farci perché non mi servono a niente Ah posso farci la carta perché la carta che ci devo fare non mi ricordo Ah l'enchantment table non so se farò l'enchant Sì perché no sarebbe una cattivissima idea fare l'enchantment table Allora mettiamo a cuocere i nostri materiali che abbiamo trovato quindi qui serve due carbone Ricordiamo che il carbone ogni carbone cuoce otto materiali quindi devo cuocere dieci metto due carbone E devo cuocere anche la cobblestone me ne serve quindi No perché la cuocio la cobblestone? Ce l'ho un po' di cobblestone cotta? Ah stone 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 No non ne ho Sì ne ho un po' allora vai e basta Non mi serve altro E marmo non so perché ce l'ho Che cazzo mi serve il marmo? Puoi anche andare a morire ammazzato E mi serve il white clay La quelle che dobbiamo finire di piazzare Andiamo un po' sul tetto a piazzare queste white clay Dammi la bicocca Dammi la gicocca Dammi la gitrocca Non mi assaggi cocche Ah vediamo un po' ragazzi Più che altro vorrei combattere qualche altro pokemon Vorrei catturare un bellum Sono fissa con quel pokemon ragazzi Lo voglio Lo voglio Lo voglio Lo voglio Lo voglio Lo voglio E' mio E' mio C'avete presente quando Insomma la letterina Babbo Natale Ecco io lo voglio Basta E' mio Cioè dovessi chiamare Babbo Natale Quel cazzo di cosa sarà mio Cos'è qua? Ah il marmo Mi ho buttato prima Che babbo Ehm Mettiamo le Le cani da zucchero No 39 What? E ci butto dentro anche il co Ma che sono andato per Ok ragazzi abbiamo un bel po' di materialuzzi Quindi siamo abbastanza riforniti Per ora Però devo Raccogliere altro Quindi sinceramente me ne tornerei Me ne vorrei tornare in miniera Però voglio anche giocare pokemon Ma non posso Perché se expo troppo Poi ho pg a 14 Che non può combattere Eh So confuso Pg Ma te ne ho l'ultimo posto Intanto perché Ecco Anche all'ultimo posto Devi stare Abbiamo dei miltank Qui un mashup Livello 5 E se catturò un mashup? No 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 Triste mashup Dai per favore ragazzi L'ho uccido allora Matt keep Eh Un mashup al 5 No perché sta morendo? Matt keep Mandiamo l'arvest No È lì Vai Bracere Oh è già danneggiato Vai Doppio vantaggio Ottimo l'arvesta Vai 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 Fai subito livello 9 Dai 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 No ma col cazzo 120 exp Che schifo Oddio Oddio questi sono grossi Fermate Se questo c'ha 90 HP Ma che racconto Oh grano Oh grano Oh grano Oh grano Perché mi è uscito solo un semino? Ma che è sta mafia? Ma era un grano completamente cresciuto Mi danno solo un semino Su due Non cheat Questo niente semini Oh mio dio E come faccio? Così muoio di fame Oh Finisco tutto il pane E devo curare i Paco Curali Tin 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 Ok Paco non curati E' pronti alla battaglia Vediamo se riesco a trovargli un bello scontro Io ho la 20 no Io ho la 20 no Io ho la 7 Ecco ecco il mio scontro Questo è il mio scontro Vai Vai la festa Bracere Nice 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 Muori bastardo Muori bastardo Ancora Bracere Vai che di cattiveria Sta facendo male anche lui però Vai vai Sì Livello 9 Nice 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 Livello 9 Livello 9 Livello 9 Livello 9 Allora Vediamo un po' quanto gli manca a salire a livello 10 339 È possibile? Non vorrei sbagliarmi Boh Quindi potrei uccidere un altro Pokémon Come fargli fare il 10 Eh no Trappi c'è 34 No Oh ho scappato Che culo Oh oh Che culo via Fugone Ok devo far uccidere un altro Pokémon al mio Larvesta Che Pokémon gli farò uccidere? Boh Vediamo un po' in giro Vediamo un po' se becco qualcosa Ragazzi ormai saltello Il zompetto e corro Tanto il cibo per ora ne ho Cos'è questo? Oh pelle Oh nice Oh ci posso fare un zenito No è una pelle a casa Trovo GG Questo è culo Non trovo diamante ma trovo queste cose Un'altra pelle No non ci credo Cibo pelle A posto Sì questo è il 22 Vabbè Vabbè Vediamo se trovo qualche altro piccolo Pokémon Non so ragazzi che la mia esplorazione si limita a questo Quello lo conosco Quello non è un po' come un iniziale ragazzi Vabbè Vediamo qui sopra se trovo qualcosa Tipo un bel Beldum No un PG8 livello 80.000 Voglio un Beldum Un piccolo Beldum Dai 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 Pokémon Tan 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 Guardiani della giustizia Pokémon I famosissimi Pokémon guardiani Guardiani della giustizia ragazzi Non li conoscevo L'avete mai visto Pokémon giustizieri Dai famosissimi Niente proprio Vediamo un po' questo Quello è Oh pelle Ragazzi Ho 7 pelle Cioè io sto facendo Cioè uno zainetto praticamente Un altro pezzetto e uno zainetto Questo quell'era 27 Sì vabbè Ma che ha fatto questo gioco Ma che ha fatto Oh Oh quello piccolino Quello piccolino Quello piccolino 11 8 Ah aspetta aspetta Stanno combattendo No l'8 morirà 8 uccidi l'11 Vai vai che sei più forte tu Vai Ah questo è il primo stadio di Jigglypuff Che carino Piccolino Bel doom al 9 Bel doom al 9 Questo è mio ragazzi Questo è mio Questo è mio Questo è mio No E qui E qui Ok Vai Bracere che gli faccio malissimo Bam Metà vita Ancora Ancora Oddio Stringshot Ok L'Hervest è morto Ok Mi sta bene Mi sta bene Mi sta bene Vai Mudkip Ehm Mudslap Nice Nice Così mista Così mista Vai ancora Mudslap Nice Una HP No Sono morti Sì Vabbè Sì Ma che cazzo Di pacchè è successo Mudkip All'11 No Vabbè Ma questo Che cazzo Significa No dai Cioè Ma avete visto Che è successo Cioè Il mio Pokémon Era un HP Il suo un HP L'Uma è stato Riduttore Il contracolpo Mi ha ucciso A me Ha ucciso A lui E il mio Ha preso Expo Da morto E È tornato in vita Perché No dai Vabbè GG Anche Mudkip È fuori dal team Ragazzi No no Non si può No no Non si può 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 Giocare Dai Ma perché Mudkip All'11 No torno indietro No non lo voglio uccidere Ma perché No Ma perché Cioè non ha senso Ma perché Un 9 Cioè un 7 Che ammazza un 9 Fa 4 livelli Ho fatto 4 livelli Ho fatto Non ci credo mai Non ci credo mai Non ci credo mai Non ci credo mai Non ci posso credere No mi rifiuto proprio di credere Ci ho fatto 4 livelli con pokemon Cioè è roba che Per xp ci metto un secolo E ora 4 livelli insieme Vabbè Basta winare Ragazzi Io Prendo la roba che ho cotto E me ne vado subito Alla zona market Perché devo posare i pokemon Troppo Il livello troppo alto In più devo Devo vendere Andiamo Eh lo so Ma adesso State stronzi Mudkip sei fuori Pg sei fuori Mi spiace Siete stronzi Ve sta bene Torniamo Torniamo al market Torniamo al market Oh 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 Ferro 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 Ragazzi Mentre andavo al mercato Ho trovato un buco nel terreno Ho detto fammi vedere Che c'è qua dentro Ferro Oh Una roba buffo A caso proprio Roll GG nice Che culo Oh Io ferro Vediamo se mi trovo Qualche altro minerale carino Magari qui In queste parti Qualche minerale nascosto Che dice Venimi a prendere Sono qui tutto per te Prendimi 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 Non c'è un cazzo Ho trovato sto ferro GG nice Torniamo su Torniamo su Torniamo Su Ecco il mercato ragazzi Siamo praticamente arrivati Qui c'è della Qualcuno ha scavato Qui oh Oh Qui qualcuno Qui qualcuno ha scavato Mettio Vabbè Eccoci finalmente Eccoci finalmente al mercato Ragazzi E io che sto venendo a fare Qui a vendere qualcosa Vediamo un po' Vediamo un po' Vendi 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 Vendiamo la L'alluminio Scusate l'alluminio Ci facciamo tanti 20 dollari Tantissimi 20 dollari 10 Lo vendo tutto l'alluminio Anzi l'alluminio Vieni 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 Lo vendo tutto completamente Fino all'ultimo pezzetto Sì lo voglio tutto mio 20 dollari Voglio essere ricco Voglio tutti i 20 dollari Allora c'è problemi Ok abbiamo 48 da 20 dollari C'è 960 dollari in totale Quanto costava casa 2000 vero? Sì Abbiamo già 1000 dollari Solo di 22 Bancone da 20 Poi abbiamo 1000 Quindi abbiamo Questi sono 19 980 1110 dollari Oddio Che altro posso vendere ragazzi Vediamo cosa compra Questo babbo redstone A un dollaro Quindi abbiamo 64 dollari Oh 10 carbone 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 vieni qui Vieni No no Ma io faccio niente Giuro Ok 1080 dollari Nice Nice Che altro posso vendere Che dite La vendo la dirt Quanto sta la dirt Un po' Un dirt 3 dollari Uno stack No Non te la do manco Se mi paghi La cobblestone 5 dollari Ah la cobblestone Potrei anche venderla 2 stack di cobblestone Te li do Ci sto Ci sto Per 5 dollari Ci sto Ci sto Ci sto Ci sto Facciamo compravendico Sti tizi Cercano di fregare Ma dove vanno Allora cambiamo I 20 dollari In 100 dollari Che era Dove sta No 100 dollari Questi Eccoli Prendi 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 E possiamo prendere Direttamente i 1000 dollari 1000 dollari Ragazzi guarda che Banco Buona dal gigante E se mi compro la bicicletta E se mi compro la bicicletta No vabbè No 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 Voglio un'altra casa Non mi interessa Voglio il pc E il trade machine a casa Sì sì assolutamente Mailbox Save plans Ah questa è bella palestra Ok Quindi mi serve il pc E il trade machine Quindi 2000 Adesso sto 1000 e tanta roba Che altro posso vendere Niente ho venduto un po' di tutto Ragazzi posso anche Fermarmi qui Che dite Vediamo Lapislazuli Quanto valgono Lapislazuli un dollaro Redstone un dollaro Se vendo il redstone Lapislazuli Scusatemi Lapis quanti ne ho 57 Scusate io li vendo Oh io vendo tutto Vai big money Ma che me frega Sì dai Uno stack di soldi Vai una stack di dollari Oh una stack di dollari Ah Anche questo Un dollaro Nice 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 I am making big money I'm going to be rich Oh Oh yeah Ok da un dollaro Facciamo i 20 dollari 20 dollaroni 20 big money Ok È rimasto questo Facciamo altri 20 dollari Nice Abbiamo 1300 1400 dollari Ragazzi Siamo quasi vicini Alla seconda casa 1400 dollari Chi offre di più 141 142 Dal vostro Calissimo Calissimo Anonimissimo Per i miei Carissimi Affamatissimi Amici Amici Frateggi Ma chi è che si fa Dei crack qua Oh I fattori Non sono messi In una serie Ma sto grano Senti come Prendo tutto Ma come vedete Ma sto grano Mezzo cresciuto Mamma mia Mamma mia Big grano Ripentiamolo ragazzi Perché noi non siamo Stronzi come gli altri Che passano Gente che passa E prende il grano E lo lascia A raccolto E non si caga più Quello che c'è dentro Gente stronza Oh Semini miei Flint mia Oh Cobblestone Questo lo vendo E le orse armor Non servono a cazzo Perché tanti cavalli Non ci stanno E il legno Glielo lascio La gunpowder Disco musicale Me lo prendo Perché voglio la musica In casa Non esiste Ok Vediamo un po' Che troviamo qui dentro Qualcos'altro Ha lasciato Stronzetto La sua cesta Speravo di meglio Certo mi sono attaccato Sicuramente qua Già è passato qualcuno A spazzolargli la cesta Io mi sono proprio attaccato Dagli spiccioli Dove sto andando a esplorare Non lo so Torniamocene su 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 Eccomi qua ragazzi Sono al centro pokemon L'inizio della mia fine Allora Devo buttarci Quindi chi era Quelli sovralivellati Pidgey No Pidgey qui E anche Mudkip qui Ciao Mudkip Ciao Pidgey Ci mancherete Siete fuori dal team Perché siete pezzi di merda Ok non devo più expare ragazzi Sono al 10 e al 9 Devo proprio fermarmi qua A meno che io non trovo Un magicarp al 2 Almeno faccio fare il 10 Anche all'arvesta Vabbè Ok Oddio Un lyron ragazzi Che bello Lo catturerò anche quello Catturo tutto Catturo Che prendi Che appelli tutti Che livello è sto magicarp 5 Oh sto magicarp al 5 No Siamo sicuri che mi fa 3 livelli sull'arvesta Scommettete No Non mi fido Ci provo dai Cazzo No no Non mi fido Non mi fido Non mi fido Non mi fido Livello 16 Vediamo se becco un magicarp al 2 Magari Livello 18 Livello 10 No troppo alti Troppo alti Troppo alti Non me la rischio Dammi cane da zucco Anche queste Non lo so perché le sto prendendo le canne a zucchero Non servono a niente Sono matto Sono matto Ragazzi Ti metto Oh un'abbra Questi scappano Vero Appunto Un magri metal 27 Adesso mi fa il culo Oh trapinch Livello 31 Livello 13 Un trapinch gigante Livello 32 Oh mio dio Un'abbra mini Livello 7 Sparito Certo Qui abbiamo un Diglett Livello 19 Vabbè ragazzi Io Me ne torno a casuccia E ti corsa anche Sono a casa Io e Vegito E con la mia squadra Di mezzata Purtroppo Ridotta a due Pochi match Del cazzo Allora mettiamo a cuocere Questo iron or Che ho trovato lungo la strada Mettiamo subitissimo a cuocere Mettiamo due pezzi di carbone Perché ovviamente Supera l'otto ragazzi Perché 8 e 1 Quindi sono 9 Quindi ce ne ho Io non 2 Ehm Ho questa rezzetto Perché non la metto Nella zenith Scusatemi Ok Allora vediamo un po' Faccio subito del cibo Sto schiettando di fame Cibo mio E metto Nella zenith Anche la pelle Le torce Questa me la metto qui Ci metto Le bacche Ci metto i semini Ci metto altri semini Per tutto Tutto nello zenith Via Il name tag Non capisco perché ce l'ho Che cazzo mi servono Che cazzo devo rinominare Non si sa E queste me le mangio Mmm Buono Ok Allora Allora Dammi 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 Mie 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 Bicocche Mie bicocche Sono piena di bicocche G-Cocche Tricocche Come si chiamano? Bicocche Tricocche o G-Cocche G-Cocche o Tricocche? Vabbè Ok Allora Vediamo un po' Adesso che possiamo fare Che possiamo fare Oh Avete visto anche voi? Avete visto? Avete È un bel Doom È livello 11 se vabbè se questo l'ammazzo mi fa 10.000 livello 8 mi ispira di più pelli nice GG ho finito ah un able to battle ah cazzo 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 devo catturare un bel ragazzi ah ecco che posso fare altre pokeball è ora di fare le pokeball ragazzi tantissimo pokemon devo catturare un bel bel gloom quindi saranno almeno 20 pokeball vai 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 ci sto ci sto 15 pokeball ragazzi la sfida comincia allora ah si 5 e 15 perfetto parto ragazzi via martello come un pazzo via go go oh dio che fatica dai ancora 7 ancora 7 delle parti sotto no pure la parte sopra devo fare oddio non ci posso pensare 0 proprio dai l'ultimo dischetto sotto l'ultimo dischetto si ok abbiamo 15 dischetti sotto ma la stone ce l'ho 14 ne manca uno ma pezzo di 0 brutto stronzo ah si mettiamo qua c'è uno stack tanto ci si ripirava le bolle oh eh uno stack si fa con 8 call ovviamente perché 8 per 8 fa 64 nice ok allora stone mi mancano solo adesso c'ho altri bottoni no mi serve solo di piastrare le parti sopra solo eh solo eh solo eh ciao cominciamo bene già ho sbagliato allora così vai si martello via quindi me ne mancano ancora 3 ragazzi ho paura di rompere il martello e appunto sei rotto un po' GG nice martello rotto eh vai ne devo fare un altro serve uno stick 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 serve ferro che dovrei avere eccolo qui eeeh altro homer via si riparte martellanti tutti i martellanti go 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 che cazzo ha fatto così vai l'ultimo ultimo ultimo si mamma mia che fatica ragazzi dio non mi ha faticato così tanto in minecraft oddio 14 no ne manca uno no si vabbè dai basta stavogero faccio più a vedere sto ambile ragazzi giuro non vedo l'ora di spaccarlo mille pezzi lo cancello dalla mia esistenza questo ambile ok abbiamo 15 15 14 nice pokeball dammi pure questi tutto 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 cazzo ho messo a ferro questo dove no no devo fare i bottoni devo fare i bottoni devo fare i bottoni ok ok vai pokeball vai tutto vai GG nice pokeball craftata GG ok abbiamo 16 no 17 pokeball nice nice adesso adesso catturiamo tutto basta stufato catturiamo tutto ecco è troppo è troppo vai andiamo da belldome un pezzo di merda cerchiamone uno e vediamo ah ragazzi vabbè io vi saluto potrei anche andare a cercare belldome intanto non c'è quindi io sloggo ci vediamo domani perché ovviamente io qui non me ne so altre ore non ce la faccio più veramente sto schiattando sto nerdendo come pochi da più di un'ora su sto server e non trovo nulla di quello che cerco so proprio il server è contro di me oggi vabbè ragazzi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti